Aspetta, mettiamo così va Una terra Qua dietro Perfetto Bastardo Allora ce n'è uno in casa Raga e uno nell'altra casa Due case dopo dove ha buttato quella a terra Due morti Porco boia Altri italiani Capri Caffa il giro Ma è dentro Sì sì Perfetto Boia Attenzione bombardamento di precisione Perfetto uno è sotto ma no traccato un altro uno fatto occhio dai finiamo uno è morto sicuro non c'è tu un'esca uno è sotto morto non l'ho finito non l'ho finito con la sinistra però gli mancano scuso occhio il cecchino a gara destra eccolo ho visto il cecchino a destra preso non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno non c'è nessuno fatto tutte e tre fatti tutte e tre fatti un'amica da me mi sono venuto insieme, uno adesso non assisto si erano ricongiunti quindi sono sortito a dire tu guardi ne fatti, due ecco il cazzo è andato con l'altro ecco, ecco e che sei, Highlander oh ma c'è l'altro che spara dai che c'ha la terza è morto grande tutte e tre dai figlia tutti e tre ce n'è un altro no è craccato finitelo finitelo l'ho chiedo è ero ecco era l'erciente l'erciente e l'erciente 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 da confermare lì dentro dove ho fingato i colpi e gli manca pochissimo però c'è un terzo quello che avevi fingato era già morto io non ho beccato uno con tutta la vita uno con lancio missili era lui era lui basta danni tutti quanti eliminati tutti eliminati ma vediamo se scappa capuzza c'è un drone ma visto sicuro compagno finito nel gulag oh mamma mia tutte e due tanto mitraglietta e stiamo colpi del paracadute ragà dove sono dei colpi del coso del fucile d'assai tanto paracadute guarda tanto paracadute guarda uno non c'è un cazzo di vita uno è passato di qua uno è giusto giù occhio 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 nando paracadute a terra uno quanti cazzo ci ne è no a terra un altro a terra giute tre uccisione tripe madonna a terra giute tre uccisione tripe